Sabato 12 ottobre dalle ore 17 alle ore 20 e domenica 13 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20 presso piazza Vittorio Veneto di Agropoli avrà luogo la campagna informativa Io non rischio. Io non rischio è una campagna nazionale di comunicazione per rendere consapevoli tutte le persone dei pericoli naturali che caratterizzano il nostro paese e renderle partecipi e attive nella riduzione del rischio. I volontari di protezione civile allestiranno punti informativi nelle principali piazze del territorio nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto per diffondere la cultura della prevenzione.